Arcaigo Instruments Ciao ragazzi, sono David di Arcaigo Instruments. In questo video voglio presentarvi al generatore Invictus MEG. Imbictus MEG is a compact and powerful envelope generator and allow you to create self-generating and complex envelopes. On the panel we find six independent envelopes, divided into pairs of two. Each pair has a quadrature function and a fade that allow you to mix between the two envelopes. How to consider that. But a Lucia Bari στο interim. A Lucia Bari Re Apa. A Lucia Bari Re doubЗote mágica ed elevations. Ora cominciamo con una semplice pratica demonstrazione. Io insergo un trigger externo in l'input della prima envelope. Io prendo l'output della prima envelope, E1, e vengo a CTRL RBCF. Io gioco con i parametri di ATTACK e DECAY. I add external voltage controls from a sequencer, to control DECAY and ATTACK. I remove the trigger input and select the cycle mode with the switch. Press the manual trigger button to start the cycle. With the ATTACK and DECAY controls, I manage the timing of the cycle duration. Relept my output from the envelope border. I move the output from envelope to the single square. If I get everything else I need to move away from the envelope. I move the output from envelope to the margin. 1 e prendo l'output combinato di enveloppe 1 e 2. Attivio il modo di ciclo di tutte le due enveloppe e setto i tempi diversi tra i 1 e i 2. Aggiungendo il potentiometro di fado, posso farlo solo di enveloppe 1 e farlo sotto per lavorare solo le due, mentre nella posizione centrale lavorano a 50%. Poi prendo un'attività di volta externa per controllare il fado e alternavo tra le due enveloppe via il controllo di volta. Poi aggiungo un controllo sul decay dell'enveloppe 2 per prendere l'output dell'enveloppe 3 e le diamo un triggere a tutti. Poi aggiungo un'attività di attacca sull'enveloppe 3 per ottenere un'attività di enveloppe. Poi aggiungo un'attività di attacca sull'enveloppe 1. Aggiungo il ciclo con il botone di triggere manuale. Aggiungo l'output dell'output dell'inveloppe di ciclo e buttarlo nel triggere dell'enveloppe 2. Aggiungo l'output dell'enveloppe 2 e buttarlo nel attacca sull'enveloppe 1. Seti un valore di attacca e decay con l'enveloppe 2 per ottenere un'enveloppe bizarra. Add a control voltage on the CW attack of the second envelope. Add a control voltage on the CW attack. 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 Add a control voltage on the CW attack.